Il progetto della discarica di rifiuti speciali a Riceci si trova ad un bivio. Il Consiglio d'Amministrazione di Marche Multiservizi si è riunito ieri per valutare una situazione divenuta politicamente ingestibile. Da un lato c'è l'intenzione di ERA e dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli di proseguire sull'iter avviato con Aurora SRL anche per evitare salate penali in caso di naufragio dell'accordo. Dall'altro lato c'è il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti che ha chiesto la virata da un progetto reputato irrealizzabile per mancanza di requisiti minimi espressi a più voci dalle istituzioni politiche interessate. Giovedì scorso si è formalizzata in tal senso la contrarietà del Consiglio provinciale. Ieri anche il sindaco di Pesaro Matteoricci in Consiglio Comunale ha dato la sua sottolineatura in tal senso. Il sindaco di Petriano che da quello che leggo in passato era favorevole adesso è nettamente contrario sia lui che il Consiglio Comunale di Petriano. La provincia in questi giorni ha espresso la sua contrarietà il Consiglio provinciale e l'assessore regionale Aguzzi ha detto che addirittura il progetto non è applicabile perché non ci sono le norme di distanza dai centri abitati quindi io credo che ci siano tutte le informazioni e le prese di posizioni possibili per far dire alla Marche Multiservizi che bisogna abbandonare il progetto di riceci. Senza riceci servirebbe un piano B su un problema di smaltimento rifiuti divenuto pressante. Per Ricci il piano B non può essere un termovalorizzatore non previsto dalla legge regionale. Il piano B secondo me è utilizzare meglio e magari di più le attuali discariche. Questo secondo me è il piano B. Mi sembra la cosa più logica. Però io non sono un tecnico e quindi delegheremo alla dirigenza di Marche Multiservizi l'individuazione del piano B. Dal consiglio comunale a quello provinciale il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha inviato una richiesta ufficiale ai vertici della regione Marche per ottenere una interpretazione autentica del piano regionale di gestione dei rifiuti che attualmente presenta gravi falle di incertezza sia sul rispetto delle distanze da mantenere dai centri abitati in occasione della realizzazione di simili impianti sia sulla tipologia di rifiuti urbani e speciali inserite nelle suddette classificazioni. Per Paolini sono chiarimenti che hanno il carattere di massima urgenza visto l'iter autorizzativo in corso sui riceci.